Assessore Pireri, oggi è un momento importante per il Comune di Sanremo, verrà celebrata un'unione civile, però non è la prima, è vero? Siete sul pezzo quindi? Sanremo sempre sul pezzo, sì certamente è vero, non è la prima, è già stato celebrato in forma molto riservata un'altra unione civile che ha visto regolarizzare una posizione di due persone che da anni sono insieme e quindi ecco che l'amministrazione di Sanremo si adegua esattamente a quelle che sono le nuove disposizioni di legge, una legge attesa da molti anni ed eccoci pronti. C'è una lista d'attesa per le prossime unioni? Oggi come oggi non c'è lista d'attesa, quando arriveranno le richieste si verificherà che siano tutti gli adempimenti compiuti e siamo pronti a celebrare ulteriori unioni.